Salve, mi chiamo Ivan, vengo dall'Italia e ho avuto il piacere di conoscere il maestro Noda due mesi fa a Roma in un master e sono rimasto colpito dall'approccio che il maestro ha avuto nello spiegare e nell'affrontare dei temi semplici ma al tempo stesso complicati. Per me è stata un'illuminazione vedere questo insegnante all'opera. A seguito del corso sono venuto alla conoscenza di un master a Madrid di cinque giorni e ho colto l'occasione per venire a trovare direttamente il maestro nella sua scuola in Spagna. E' stata per me una grandissima esperienza perché mi ha dato degli strumenti in cinque giorni secondo me fondamentali che hanno migliorato la mia professionalità sia in termini di qualità di pressione, postura ma soprattutto interpretazione dell'equilibrio di una persona, di quelli che saranno i miei clienti. Quindi credo in definitiva che la qualità del mio Shatsubo sarà aumentata di molto. Quindi ringrazio veramente tanto per l'esperienza. Grazie e continuate così. Ciao a tutti. a new approach, a new understanding about the technique, about the approach and it was like very very intense course I did a lot of courses in my life but it was like really very intensive course and it was like covering all the aspects between the practical one, the theoretical one it opens a lot a lot of doors about many many approaches and many things I'm so thankful for Master Onoda, Mr. Julio, it was a really wonderful experience. Thank you. My name is Iris Fernandez. I'm from Lugo, Galicia. It has been a great pleasure to be able to assist to this intensive course with Master Onoda. It was a range that I didn't know about it, I didn't know much about it, I'm more dedicated to osteopatia, but they are very applicable and combined with another rama on which I can work, I really believe that all the patients can be able to stay well. It has been very honorable to be able to do 6 hours of train and come here and that it is truly enjoyable. Thank you very much for everything.